Linea di attesa per i 5 Stelle, prosegue il dialogo con la Lega, ma sulla Premiership il Movimento tiene il punto su Di Maio. Il servizio è di Claudia Mazzola. Resta fiducioso rispetto ad un governo Lega 5 Stelle, Luigi Di Maio, che sceglie la linea tendista mentre i riflettori sono puntati su Salvini. Dal Movimento si fa sapere che i contatti tra i due sono intensi anche in queste ore. La leva per sbloccare lo stallo nelle sue mani ragionano i vertici. Se si stacca da Forza Italia partiamo subito con il contratto di governo. Dopo gli attacchi di Berlusconi, fine di qualsiasi possibilità di interlocuzione tra noi e loro, ripetono dal partito. Attendiamo le valutazioni che il Presidente della Repubblica farà nelle prossime ore per il bene del Paese. Siamo fiduciosi e il nostro obiettivo è dare al Paese al più presso un governo del cambiamento che risolva i problemi dei cittadini. Ma resta il nodo Premiership. Di Maio non è disposto a fare passi indietro rispetto alla guida di Palazzo Chigi, pronto invece ad offrire al carroccio ministeri di peso come economia o interno. Ma il tempo stringe. Se 5 Stelle non riusciranno a portare a casa l'accordo con la Lega entro le prossime 48 ore, l'intenzione resta passare al forno Dem, rimasto sempre acceso, insistono i grillini. Il governo col PD sarebbe politicamente più digeribile dal partito ma complicherebbe la partita a Di Maio, soprattutto se a ricevere l'incarico esplorativo fosse il Presidente della Camera a FICO.